Franco Varesi sta di visita in nostro paese e charlò di tutto, hasta ricordò esa triste finale del Mundial del 94. Era l'ultima occasione, l'ultimo Mundiale per la possibilità di alzare quel trofeo, però sappiamo tutti come è andato a finire, però ripeto, fa parte della mia carriera, dello sport, ho fatto la miglior partita nazionale, credo, in una finale mondiale. Franco Varesi sta in nostro paese per la clausura del ciclo di verano della Scuola del Milano, che è la prima in Sud America. Grazie per la visione!